Le questioni che sono sul tappeto voi le conoscete, le ha richiamate il Presidente Barroso e le hanno richiamate altri commissari che sono qui. Io me ne sono occupato direi un po' di più o un po' di meno che da Presidente della Repubblica da ostinato credente nella causa europea nel discorso che ho tenuto al Parlamento di Strasburgo all'inizio dello scorso febbraio e non ritornerò anche su tanti convincimenti personali e su tante motivazioni che ho ritenuto di dover prospettare dinanzi a quell'Assemblea di cui sono stato partecipe in due riprese all'indomani o anzi nel corso della grande svolta storica dell'89 e poi dal 1999 al 2004 quando dopo la conferenza intergovernativa di Inizio a Siero avviato il grande dibattito sul futuro dell'Europa.